vorrebbe funzionare così chissà ci troviamo bella vediamo se riusciamo a gestire la cosa ma non so bello ragazzi c'è un po di bordello come al solito bella ragazzi bella lì neanche cosa combiniamo qua adesso otteniamo aperto così provvediamo per gestire la cosa ovviamente non vedo un cacchio di messaggio vediamo se riusciamo a beccare qualcosa di grosso ok ma vediamo sul galleggio a beccare ho preso il pesce l'ho preso uno si e ci siamo doppia mica che sveglio ragazzi ui primo quanto non poteva resistere ai 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 signor longari Questa è buona però eh. Andiamo a portarla via. Basta che non ci sia l'amo. Ecco, bella. Mi scappa giù questo diventa un po' un problema. Questa è buona. lo sapevo che faceva tutta puttanata lo sapevo ehi ma non c'è la ma Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Bella. e a tutti. 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 e dai saluto al beppe mi dicevo che avevo preso il luzzo porca pagnetta pagnetta poia a bene ancora bella ragazzi lasciate commenti vi rispondo dopo la notizia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.